Abbiamo un servizio che si occupa proprio di andare a rivedere il vostro curriculum vitae, la vostra lettera di presentazione, spiegarvi quali che sono i meccanismi del mercato del lavoro e quindi darvi una mano concreta nella ricerca del lavoro. Sperando ovviamente che alla maggior parte non interessi questa cosa. Però non c'è più che vediamo perché a volte presentare il curriculum mettendo in evidenza le caratteristiche principali del vostro percorso formativo vi dà un'opportunità maggiore. Quindi è importante il curriculum perché la carta di professione è veramente importante. A volte basta riorganizzare meglio le informazioni del vostro percorso formativo e lavorativo che magari l'azienda può valutare positivamente la vostra candidatura. Il nostro servizio non è solamente un riorganizzare al servizio ma è anche andare alla ricerca di opportunità che a noi capitano. Cioè di noi abbiamo diverse aziende che si rivolgono da noi perché stanno ricercando il vostro salario che è qualificato in determinati settori, sia OSSO, sia assistente alla poltrona, sia passaggiatori. E magari lì li possiamo utilizzare verso costoro. Possiamo dare delle indicazioni su come, che atteggiamento ottenere durante il colloquio, perché come presentarsi, come presentare, cosa dire. Grazie.